segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te sarebbe la possibilità di farlo ma certo guardi io come economista sono sempre un po titubante quando si tratta di fissare per legge dei prezzi però anche gli economisti possono anzi debbono di fronte alle realtà che cambiano cambiare le loro opinioni e io ho scritto alcuni editoriali nei quali ho sostenuto che è doveroso nel nostro paese introdurre un salario minimo perché nonostante la contrattazione collettiva sia nel nostro paese molto estesa è vero che c'è una parte di lavoratori che non sono tutelati e sono semplicemente sfruttati mi è capitato l'altra sera qui peraltro stiamo parlando di un lavoratore che è coperto da contratto di entrare in farmacia c'era una guardia giurata questa guardia giurata ha cominciato a parlarmi e mi ha detto io non ce la faccio mi danno 5 euro all'ora e 5 euro all'ora fra l'altro noi abbiamo avuto inflazione anche elevata adesso sta scendendo l'inflazione non stanno scendendo i prezzi quindi i prezzi continuano ad aumentare sia pure a un ritmo più ridotto ma in questi anni i salari che non sono aumentati hanno perso potere d'acquisto allora questo era un'occasione io non ho sentito dire la maggioranza ha perso un'occasione no la persa il paese era un atto di civiltà sostenuto anche da considerazioni economiche non avrebbe creato quegli effetti perversi di cui la maggioranza anche con l'avallo del Cneil ha parlato e quindi era un atto di civiltà che avrebbe potuto per una volta mettere d'accordo maggioranza e opposizione gli uni a ridurre un po i toni trionfalistici gli altri a dire facciamo una cosa buona ma non funziona mai così Alessandra quello che dicono per sempre per i chi destra e loro diciamo